Solo persone in mala fede possono non riconoscere che Napoli attraversa una stagione di vivacità turistico-culturale senza precedenti, sulla quale non è che bisogna grogiolarsi, sulla quale bisogna riconoscerne i meriti di chi ha puntato su questo, perché è un fatto innegabile e uno stimolo per tutti noi, tutti noi napoletani, per me che sono il sindaco, a fare sempre di più, perché per noi è solo l'inizio. L'inizio perché Napoli deve puntare in alto, deve avere servizi efficienti, deve avere più organizzazione, però è molto bello vedere che oggi Napoli fa il giro del mondo non più con la spazzatura e la mala politica, ma con le immagini della sua bellezza, di un fiume di turisti, anche di un benessere collettivo dello stare insieme. E questo impegna tutti a fare sempre di più contro la violenza e il degrado, ma quello a cui io tengo molto a cuore è che tutto questo fornisce anche un'alternativa a tante persone disperate senza lavoro e a tanti giovani che magari non trovavano una strada. Quindi credo che è un momento anche politicamente molto interessante e ovviamente siamo assolutamente lieti che anche colossi come la CNN si accorgano di questo, perché questo per noi è utilissimo, perché la comunicazione, le immagini, ciò che accade se fanno il giro del mondo, sono un grande stimolo per noi tutti.